E adesso la cronaca ci porta al Pompei, al crollo della Scolar Matararum, della Domus dei Claviatori, negli scavi appunto di Pompei, uno dei siti archeologici più importanti al mondo. I tecnici sono al lavoro per stabilire le cause di quello che ha successo stamane, erano le sei, ma si teme che il crollo del tetto e poi dell'intera struttura sia dovuto ai materiali utilizzati per il restauro e poi l'altra causa, le infiltrazioni d'acqua dovute alle piogge dei giorni scorsi. Allora, il servizio è di Matteo Parlato. Pompei crolla, la casa dei gladiatori si è sbriciolata, come vedete in queste foto del mattino in Napoli. Per le immagini bisognerà aspettare perché i giornalisti non vengono fatti entrare nel sito. A far crollare un pezzo del patrimonio mondiale dell'umanità, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state le piogge di questi ultimi giorni che avrebbero indebolito le fondamenta che non hanno più retto il pesante tetto di cemento armato costruito negli anni 50. Comunque sia, la scola armatorum juventuti pompeiane è crollata e con lei gli affreschi che erano sulle sue perieti e che ora non ci sono più. Paradossalmente, l'eruzione del Vesuvio del 79 a.C. ha ucciso una città, ma ci ha regalato una foto della vita nella provincia di Roma. Foto che noi non siamo stati capaci di conservare. Stiamo assistendo ai penultimi giorni di Pompei?